buongiorno oggi sono già in piedi buongiorno io vi dico buongiorno ma il buongiorno per me non per voi non c'è ancora il sole salirà tra un po poi alle 11 11 qualcosa andrò via con mia mamma a belluno cos'è sta roba se fosse un ragno no perché andrò a belluno ecco fare spesa ieri sera ho chiuso il frigo c'era un ragno lì appeso ho preso un infarto panna volete che apriamo il calendario apriamo il calendario oggi è il 12 oggi 12 12 oggi c'è la dac pippo una pipo pepe panna una pepe e una panna ecco bravissimi e bravi ecco basta uno snack al giorno toglie il veterinario ritorno insomma vero ah ieri sera li ho pettinati tutti e tre sono riuscita a pettinare un po anche pepe che lui è un po restio farsi torturare dal pettine panna si fa sempre pettinare lei adora essere pettinata appena vede la spazzola inizia a fare le fusa una cosa che adora questo topolino pippo pippo che tutto ma il pazzo non lo capite che pazzo pippo sa che è giunta l'ora di andare a chiudere le finestre di camera che freddo dovrebbe essere sotto zero oggi io direi di aprire subito anche il calendario è leggero anche oggi per fortuna l'ho pagato la metà dei soldi no circa la metà questo calendario gli elastici mi stanno di plastica cioè questi qua non mi piacciono prima di andare via da casa devo ricordarmi di senti che bel caldo che c'è già qua davanti al fuoco di devo ricordarmi di assi di programmarvi video per oggi visto che li ho caricati stanotte e quindi devo ricordarmi ho ancora due ore di tempo tanto mi ridurrò all'ultimo come sempre ora mattinata produttiva sono le 10 ho sistemato i video ho messo solo l'acqua per la pasta sì siccome ho ancora i tappi non ho sentito che bolliva è andato tutto sul pavimento tutta l'acqua vabbè ho asciugato adesso e niente quindi sto preparando il pranzo per franzo perché poi io sarò via quindi così arriva a casa tutto pronto adesso porto dentro la legna poi ho sistemato l'armadio perché era di nuovo un caos totale e quindi l'ho risistemato adesso tutto in ordine sono pronta mi vestita semplicemente con i jeans e questa maglia che è antica no antica no però è un po' vecchia e ho raccolto i capelli dietro perché non so perché dovevo far qualcosa e li ho raccolti poi e poi avevo lasciato sulla molletta ho preso le borse per la spesa dalla macchina ho fatto tutto credo no ecco c'ho ancora il pane in forno ancora il pane in forno perché lo sto scongelando e teoricamente dovrebbe essere quasi pronto anche questo sì per me è scongelato spengo il forno il pane qua ecco adesso ho veramente fatto tutto c'ho sto ciuffo qua che mi dà un fastidio perché mi davanti agli occhiali io non dovrei legarlo così tipo con i capelli fini che mi ritrovo o libertà libertà la fronte libera io una volta avevo la frangia come facevo portare la frangia non chiedetemelo direzione all the wild west qua a belluno io non vedo niente con il sole grazie che freddo che c'è all'ombra oh madonna e dove si parcheggia di là perché di là c'è il parcheggio sempre vuoto di pittarello perché qua è piccolo il parcheggio sennò c'era anche posto all'alba delle 13 e 26 abbiamo mangiato siamo venuti giù per far spesa un'ora a mangiare oggi sono stati veramente lenti nel servizio tanto tanto lenti si cibo era buono il pollo buono proprio c'è stato solo una volta che era un po secco invece no oggi anche era buono succoso questa di griglia e niente si continua a dire che anche noi sappiamo di griglia non sa lona sappiamo da griglia non c'è odore non è come il mac vabbè adesso devo stare attenta perché sono abituata a guidare io di solito vengo sempre da sola qua giù pensavamo di avere finito tutto e nooo aspettate no perché bisogna andare dal dentista a pagare quindi io devo fare la chiusura del che non so dell'anno e quindi bisogna andare dal dentista a pagare non roba mia che vi ho detto che io ho già finito ok niente siamo state qui all'emisfero fare due compere ma due di numero e basta fa fresco eh avete visto che bello c'è che bel colore wow va bene dai andiamo a casa mi dovrebbe essere arrivata la tinta dovrebbe essere anche arrivato il caffè oggi tutto oggi arrivava oggi che non ero a casa comunque oggi praticamente abbiamo mangiato l'old wild west mi mamma è rimasta contenta non pensavo fosse così buono cioè ha mangiato come me il chicken però non pensava fosse così buono il pollo ecco perché ogni tanto l'ho fatta mangiare anche al mac però al mac è tutta un'altra cosa cioè non è neanche paragonabile infatti io non vado più al mac io vado all'old wild west pagherò di più però alla fine è molto più buono ti sozia molto di più e anche la salsa non è non è cattiva la prima volta che l'ho mangiata ho detto dio che salsa è poi adesso mi piace il gusto sono quei gusti nuovi che insomma ti abitui dopo adesso dovuta tornare dentro perché aveva lasciato i buoni alla cassa infatti il signore pensavo di essere sporca il signore che era dietro di noi adesso la fermata e le ha chiesto se aveva lasciato lei per caso i buoni infatti le aveva lasciati lei andata dentro prenderli e niente appunto dobbiamo andare di nuovo tornare di nuovo di là verso il centro di belluno che questa è l'ora peggiore per andare fino a lì perché c'è traffico di chi finisce di lavorare però bisogna andare a pagare il conto di mio papà e quindi e quindi così è una luce qua che fa paura ma perché si deve scaldare allora devo mettere via tutto ciò che ho comprato per la spesa il video della spesa lo vedrete la settimana prossima credo lunedì perché vedate dovete darmi il tempo di editarlo e c'ho un casino in testa che va vabbè mettiamo via tutto quello che ho preso allora allora quella è la sezione del pesce quel cassetto la dovete sapere che è tutto diviso quella la sezione del pesce quindi queste non vanno bene questo neanche qua abbiamo tutto pesce praticamente queste sono patate guardate si vede qualcosa io spero di sì vedrete tutto nel video no ecco io ho acceso questo video ho acceso questo video semplicemente perché volevo salutarvi e volevo chiudere ho acceso questo video va bene sono fritta completamente volevo chiudere perché la verdura insieme alle patate le cotolette io vi ringrazio per essere stati qua con me stasera mi aspetta una serata di video editing mi è arrivata la tinta per i capelli sì il caffè non è arrivato hanno variato la consegna ancora arrivarmi ieri non hanno consegnato dovrebbe arrivare domani si accettano scommesse anche per questo perché io non so se arriverà alla fine questo benedetto caffè sono le capsule cacchio cioè mi conviene ordinare un mese prima o andare fuori a valesella valesella si lì c'è il negozio le contro la domani per voi sarà venerdì quindi due nuovi video wow siete fortunati ci vediamo statemi bene chiudo alla prossima ciao 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 ciao